Moda marina, moda difficile, deve entrare in competizione troppo diretta con gli irresistibili modelli creati dal bondio. Poco più di un fazzoletto, per un moralista è troppo poco, per un nudista è già di troppo. Un completo da pesca, pare un abito da passeggio, l'apparenza inganna, il nodo si scioglie, la chiusura manco a dirlo si apre in un lampo e siamo tornati al prendisole. Il secondo gonnellino è quasi soltanto un simbolo, una nostalgia, ma anche una nostalgia può pesare e la signorina lo dimostra sbarazzandosene. Che belle gambe, vero? Scommetto che verreste volentieri al mio posto, ma non ve lo cedo, ho il diritto di starci, ci sono quando capitano i disastri, le inondazioni, le esplosioni, è giusto che ci sia anche quando c'è qualcosa di più, di più, sì, di più appetibile. Dove sono? dietro lo schermo, sono la voce che commenta la settimana Incom, so che a furia di sentirmi morivate dalla voglia di vedermi ed eccomi qui. Chi sono? Bravi, guido notari per servirvi, ho il piacere, sì, il piacere, il piacere è tutto mio. Vengo ad annunciarvi grosse novità, quanto prima fioriranno intorno alla settimana Incom grosse sorprese, palpiterete, fremerete d'attese di curiosità, vuol dire che se ho promesso troppo mi terò a vostra disposizione, potete sempre trovarmi dietro lo schermo.